finale scoppiettante in quel di lione è un team sunweb che veramente non gli avrei dato un euro venendo il roster ma sta facendo un tour spettacolare sta rendendo delle tappe diciamo interlocutorie bellissime con attacchi un po pazzi un po suicida però stanno portando veramente risultati importanti alla formazione tedesca che mancava di un vero e proprio velocista di spicco a parte chess ball che comunque sta stupendo perché nessuno si aspettava potesse far così bene per quanto è un corridore che a me piace molto e seguo già da un paio d'anni come grande talento però non me l'aspettavo sicuramente così è un tischbe no punto di riferimento che era un po in mancanza di condizioni ma veramente tra crag Anderson, Hirschi, Pedersen veramente stanno andando fortissimo tutti quanti buon pomeriggio a tutti amici appassati di sport ben ritrovati su mogliarino sporciane io sono Alessandro sono qui per parlarvi appunto della quattordicesima frazione se non sbaglio del Tour de France 2020 194 km con partenza da Clermont Ferrand e arrivo a Leone con la presenza di 5 GPM 3 di quarta categoria 1 di terza e 1 di seconda categoria prima parte di tappa che vede la fuga di due corridori ovvero Stefan Kung del gruppo Amave de Gea e Edward Töns della Trex Gaffredo con dietro Sagan che attacca Sema Shackman per prendere il terzo posto al traguardo intermedio prosegue il forcing della Bora Hasgrohe da prima sul falso piano con Oss e Pusselberger e poi sulla salita forte ritmo imposto soprattutto da Groschartner e Lennart Kamna il forte ritmo della Bora fa staccare quasi tutti i velocisti puri con Sam Bennett che prova a non mollare con aiutato anche da quattro gregari tra cui appunto Hasgren e Tim De Klerk ma davanti prosegue il forcing della Bora aiutato anche dalla CCC di Matteo Trentin e dunque grandissima fatica per i gregari dell'Aelsinic Quickstep tutto in vano perché a 77 km dalla conclusione Bennett decide di arrendersi e ormai era impossibile rientrare e dunque restano davanti tra gli uomini veloci solamente Van Aert, Sagan e Trentin diciamo tra quelli più importanti dietro nel frattempo ancora più dietro Caleb Iwan ormai a 15-20 minuti quando arriviamo sul finale il forcing viene proseguito dalla Jambovisma e dal team Ineos con Tijbenot che prova un attacco sulla prima delle due cutte proprio all'interno della città di Leone che è costruita su Piucolli la terza città più grande di Francia sulla Cote de Doucher di quarta categoria appunto ci prova Tijbenot primo attacco della Sunweb dietro ci prova anche Maduah entrambi vengono ripresi però al termine della discesa dal lavoro soprattutto di Lennard Kamna che decide di proseguire perché aveva preso un piccolo gap in discesa scelta che col segno di poi si è rivelata molto molto azzardata e sbagliata perché sarebbe stato veramente fondamentale per il finale in supporto a Peter Sagan ci prova appunto Kamna da dietro ci prova anche Thomas Degen e arriva l'azione che diciamo fa aprire questa fase pienissima di attacchi ovvero la rasoiata secca sulla seconda Cote della Croix Russe se non sbaglio sempre all'interno della città di Leone di Julien Alaphilippe con dietro Egan Bernal uomo di classifica del team Ineos che prova a inseguire terzo in classifica dunque Giambovisma costretta a tirare fortissimo purtroppo con Wout Van Aert e anche con Tom Dumoulin appunto fase pienissima di attacchi ci prova anche Mark Hirschi secondo attacco del team Sunweb seguito direttamente da Sagan e Greg Van Avermaet ci prova anche Oliver Nasen ci provano veramente tantissimi corridori ma alla fine l'attacco decisivo è quello a 4 km dalla fine circa quello del danese Soren Kragandersen terzo attacco della Sunweb e attacco decisivo infatti nessuno riesce a inseguire ci prova non so se fosse Latour o Guillaume Marten scusate Laporte o Guillaume Marten comunque ci prova qualche Cofidis a chiudere ma tutto in vano perché la vittoria va appunto a Soren Kragandersen seconda posizione per Luca Medgec a 15 secondi che guida la volata di gruppo davanti al nostro Simone Consonni ottima prestazione del giovane corridore bergamasco in forza appunto la Cofidis solamente quarto Peter Sagan con la quinta posizione ancora Sunweb con Kasper Pedersen un corridore che non mi sarei mai aspettato di vedere in top 10 al tour ma Kasper Pedersen c'è poi conclude la top 10 Jasper Steuven, il nostro Matteo Terentil, Oliver Nasen, Sonny Colbrelli e Mark Hirschi quindi terzo Sunweb in top 10 veramente questa età è stata la tappa Sunweb Sunweb che ha fatto di tutto di più ha attaccato e alla fine ha portato tre atleti in top 10 con la vittoria di Kragandersen veramente spettacolare la tappa spettacolare il team Sunweb e questo è il Tour de France anche in tappe diciamo interlocutorie si può aprire la corsa mentre in tappe in cui ci si aspetta possa succedere molto come in quella del Monde Gual non succedere niente quindi sempre grosse sorprese al Tour de France comunque ragazzi direi che per questo video è tutto invito a cercare un commento e mi piace iscrivervi che ha da segnalare la sfortuna per la Gio d'Isère la Mondiale con la doppia caduta ieri che ha coinvolto anche Mollema costretto a ritiro Quintana e i due della Gio d'Isère ovvero Romain Bardet e Pierre Latour Romain Bardet che non è partito a causa di una commozione celebrale purtroppo sta facendo anche un'ottima classifica per quanto non sia un corridore che mi piace molto veramente mi dispiace per Romain Bardet che stava vivendo un ottimo Tour de France era ancora in classifica ed è un peccato che debba lasciare così e lascia anche appunto Pierre Roger Latour per i postumi della caduta si ritira nel frattempo appunto nel corso di questa tappa comunque sto dicendo che questo video è tutto invito a cercare un commento e mi piace iscrivervi seguirci anche sulla nostra pagina Instagram noi ci vediamo a un prossimo video